Oggi biscottini per tutti Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale Oggi ho deciso di fare i biscottini Sarà l'autunno, sarà il tempo ugioso Ho proprio voglia di un bel biscotto Sapete che gusto? Alla zucca Tu non parli oggi? No perché sapevo che dovevamo girare un altro video Quindi mi hai spiazzato Bene quindi facciamo i biscottini Sapevo un'altra cosa Non ci sono rimasto male perché so che questi biscottini saranno veramente buoni Quindi spostiamoci di là e andiamo a prepararli Ed ecco gli ingredienti per i nostri buonissimi morbidelli alla zucca 200 grammi di farina Io la ho bianca ma potete usarla anche integrale 100 grammi di polpa di zucca cotta Io l'ho cotta al microonde per 6 minuti Ma voi potete cuocerla anche accartocciandola in alluminio all'interno del forno Oppure semplicemente facendola al vapore 75 grammi di zucchero 30 grammi di burro La scorza grattugiata di un'arancia Un uovo intero E per finire ci occorrerà come decorazione qualche seme di zucca 50 ml di latte Mezza bustina di lievito E un pizzico di sale Cominciamo subito Metto la polpa della zucca in una ciotolina E inserisco anche il burro In modo che la polpa della zucca ancora calda Sciolga immediatamente il burro E mi venga meglio amalgamare il burro a tutti gli altri ingredienti Io per fare i nostri biscotti userò la planetaria col gancio a foglia Vedrete la semplicità di esecuzione Basterà versare tutti gli ingredienti in un contenitore Che sia la ciotola della planetaria o una ciotola qualunque Cominciate a versare gli ingredienti Dapprima la zucca e il burro La farina tutta Il pizzico di sale L'uovo La scorza di arancia grattugiata Io la grattugio fresca Per far cadere tutti gli oli essenziali All'interno della planetaria Attenti a non grattugiare anche la parte bianca Che porterebbe l'amaro La mia naturalmente è un'arancia bio Non fatelo con arance non bio Perché sennò mangereste veleni Inseriamo il latte E la mezza bustina di lievito Che è un cucchiaino bello grosso Quindi prima di andare in planetaria Versiamo anche lo zucchero Avviamo dolcemente la planetaria Aumentiamo un po' la velocità E facciamo prendere bene tutto l'impasto Prendo un tegame a sponde alte Se non avete una sacca poche Fate come me Utilizzate una bustina per conservare i cibi in frigo Io ho questa dell'IKEA Inseritela nel tegame E svoltate all'infuori i bordi Prendiamo l'impasto E versiamolo qua dentro L'impasto così ottenuto Lo verseremo nella nostra bustina Che fungerà da sac a poche Se invece avete una sac a poche Usate direttamente quella E chiudo la mia bustina E quindi facciamo riposare l'impasto in frigo Per 15 minuti circa Stendiamo quindi su una leccarda Della carta forno Tagliamo un angolo della nostra busta E posizionandolo in verticale Cominciamo a fare i nostri biscottini In cottura i nostri biscottini Si allargeranno Quindi mi raccomando Lasciate abbastanza distanza Tra ogni biscotto Al centro di ogni biscotto Mettiamo un seme di zucca E quindi in forno A 180 gradi Per 15 minuti Con forno combinato Nella parte bassa Del forno Ed eccoli qui Pronti Per essere Assaggiati E giusto appunto Per l'assaggio Indovinate chi è arrivato? Io sono arrivato io Sì perché ora Assaggeremo questi fantastici Come li chiamati? Morbidelli alla zucca Morbidelli alla zucca Dei biscottini buonissimi Per i tè autunnali Non troppo pesanti Molto leggeri Ma con una consistenza anche morbida Non troppo croccante Sono quelle pastine Dessert Da pomeriggio Che fanno tanto Comfort food Tutte queste cose Sono molto belle Assaggiamoli Bene Allora ne apro uno Guardate che belli Guardate che belli Il colore della zucca Ancora sono caldi Ancora sono caldi Quindi sono un po' più morbidi Di come sarà la consistenza finale E saranno Meno dolci Di come sarà la dolcezza finale Guardate i pezzetti di zucca Buoni Delicati Noi vi lasciamo alle foto E voi andatele a preparare A dopo Sanno di casa Buoni A dopo Visto Avete visto Avete visto Com'è buono Questo biscotto alla zucca E' ottimo per qualsiasi ricorrenza Anche per i battesimi Ma che c'entra E' buonissimo Sia per le colazioni Che per le merende Che anche come spezza fame E allora Provateli E fateci sapere Cosa ne pensate Dei nostri buonissimi Biscottini alla zucca Noi ci diamo appuntamento Brava Sempre qui Sulle nostre tovaglie Sulle nostre tavole Un bacio Buoni biscottini a tutti Sulla tovaglia ci sta bene Sulla tovaglia ci sta bene Sulla tovaglia ci sta bene